Altro sciopero dei lavoratori dell'Ariello di Villanova di Cepagatti, questa volta però la protesta si sposterà fuori regione. Stanotte infatti un pullman con a bordo le maestranze abruzzesi raggiungerà i colleghi di Legnago, anche loro in sciopero, per realizzare un presidio davanti allo stabilimento Veneto dalle 9 alle 12 del mattino. L'obiettivo è riaccendere la luce su una vertenza che entro fine anno porterà, solo per la sede in Abruzzo, al licenziamento collettivo di 71 lavoratori, con altri 19 che per continuare a lavorare dovranno accettare il trasferimento all'ECCO. Sì, diciamo che è un bellissimo gesto quello dei colleghi, compagni che ci ospiteranno domani perché saranno in sciopero anche gli altri siti di Legnago, Volpago, Morbegno, sono gli altri siti che di fatto adesso non sono investiti da nessuna procedura, però per solidarietà ci accoglieranno tutti quanti al sito di Legnago, che è il sito dei bruciatori, dove andrà il prodotto di punta di Villanova dei Cepagatti, il prodotto di punta sviluppato qui andrà lì e quindi loro si fermeranno, scenderanno e saranno con noi in presidio per tutta la mattina. Viaggeremo tutta la notte per incontrare i nostri colleghi. Per quel che riguarda lo stabilimento di Villanova, la FIOM CGL ribadisce quella che è la posizione anche degli altri sindacati. Attualmente siamo al quarantesimo giorno circa dell'avvio della procedura perché la procedura licenziamento collettivo è partita il primo settembre, quindi adesso siamo quasi alla conclusione della fase sindacale. Il 12 ottobre ci ritroveremo a Confindustria con l'azienda per provare a trovare una soluzione, ma noi la nostra posizione è sempre la stessa, il ritiro della procedura, perché non si può trattare con questa spada di Damocle che è il licenziamento collettivo che deve arrivare. Se si concluderà con un mancato accordo si passerà alla fase amministrativa e quindi ad un tavolo regionale e lì cercheremo di trattare una soluzione che sia appunto quella di tornare indietro per preservare il sito di Villanova. Possono esserci margini secondo lei? I margini ci sono perché se l'azienda non è in crisi si può trattare tutto ciò che può riorganizzare, rilanciare il sito. I margini ci sono sempre quando un'azienda non soffre di una crisi industriale. Proposte alternative sono state fatte? Non ci sono proposte alternative perché l'azienda parla di ricollocazione ma non ha mai concretamente fatto delle proposte dove, quando, come, perché, anche perché gli altri siti non potranno ospitare se non i 19 ai quali è stato proposto il trasferimento.